Amici lettori, bentrovati ad una nuova recensione, opinione personale su una mia lettura. Oggi vi voglio parlare di un romanzo fantasy di genere sword e sorcery dal titolo Il Patto della Viverna, dell'autore Maurizio Vicedomini. Vi leggo la trama. Nel freddo nord della Taiga, un'armata scheletrica radia al suolo un villaggio dopo l'altro, avanzando verso il sud più profondo. Sopravvissuti alla distruzione, Tiros, Kalin e Alanna, scusate le pronunce, inizieranno la loro caccia contro un nemico che governa la negromanzia forte dei poteri di un antico legame. Ma al patto si contrappone una promessa, la promessa di un cacciatore bramoso di vendetta, disposto a fronteggiare la morte stessa pur di portare il giusto riposo al suo popolo. Come chi mi segue saprà già, la mia lettura privilegiata è la fantascienza, non il fantasy. Quindi io premetto sempre ad ogni recensione che il fantasy non è che mi piaccia tanto. Però con quest'opera mi devo ricredere, perché Maurizio è riuscito, col suo stile davvero molto scorrevole e coinvolgente, a farmi appassionare a questa storia. Lui è riuscito davvero a catturare la mia attenzione, quindi per questo vale già tanto. Allora, la storia che l'autore ci presenta, già dal titolo colpisce, il patto della Viverna. Io, Odè, mi sono chiesto, ma che cos'è una Viverna? La Viverna è una sorta di drago, è un lontano parente del drago e dell'idra. Ricordate quella di Hercules, quella che si moltiplicava più teste tagliavi e più ne sbucavano fuori altre? Ecco, è un mix tra un drago e un serpentone marino, chiamiamolo così. Assomiglia ad un'enorme lucertola con le ali, ovviamente alle ali, e un pungiglione, ecco la caratteristica strana, c'ha un pungiglione. Sulla coda, si tratta di un animale difficile da trovare sia nelle leggende che nei bestiari, e di solito viene identificata con il male assoluto, ovvero con Satana. Brevemente, la mia impressione, credo di essermi già espresso con l'apprezzamento per la scrittura, per l'autore. La storia è veramente ben scritta, tratti riusciremo poi a capire quello che era successo molti secoli prima dell'avventura dei nostri tre protagonisti, che poi diventeranno due. Se dovessi trovare dei difetti, bene, mi mancavano le figure femminili. La figura femminile è solo Alanna, ma secondo me per un motivo, perché altrimenti non avrebbero spiccato Tiros e Kalin se ci fossero state altre, presenti altre figure femminili. Questo un po' mi è dispiaciuto, perché avrei preferito nella storia più figure femminili. L'inizio può spiazzare, perché viene massacrata l'intera popolazione della tribù di Tiros, che è un arciere, che era a caccia con la sua compagna d'infanzia e con il suo mentore, Kalin. E praticamente gli sterminano davanti agli occhi tutto il suo popolo. E questo un po' può spiazzare, perché uno inizia a leggere la storia e pensa, ma scusa, ma qua neanche iniziato, già sono tutti morti. Un po' può spiazzare, però poi si capirà il motivo di questo massacro. Vedremo poi magie, negromanzie, incantesi, bipatti e chi più ne ha più ne metta. Quindi come tessuto fantasy c'è davvero tutto, non manca proprio niente, perché ci sono combattimenti a non finire. E quindi questo a chi piacciono i romanzi di azione si troverà soddisfatto ampiamente sulle lotte. Anche la caratterizzazione psicologica dei personaggi è interessante, soprattutto quando riusciamo poi a scoprire il passato di alcuni protagonisti, che non vi posso citare per non rovinarvi la trama. Devo dire che si vede che l'autore si è impegnato molto a creare una più approfondita sottotrama di quella generale, con un escurso storico veramente interessante, perché ha ricreato un mondo intero. Non è una cosa semplice, soprattutto per essere il suo primo romanzo, che prima ha scritto un racconto dal titolo Myrdin di Avalon. Le mie pronunce sono davvero terribili. Dove, appunto come potete capire dal titolo, ci si rifà ai cicli bretoni. Cos'altro aggiungere? Cosa dimentico? Ah, credo che il filo d'unione, così come l'autore stesso ammette, è la vendetta. Infatti lo scopo principe di Tyros è quello di vendicare il suo popolo massacrato davanti ai suoi occhi da questi strani e misteriosi guerrieri scheletrici. E vedremo che non saranno soli questi protagonisti, ma saranno aiutati da un misterioso, druido, stregone della natura. E con altra caratteristica del romanzo è che, come l'autore nella post-fazione scrive, può il fantasy e il fantastico in generale parlare della realtà? E' una domanda che pongo spesso, ricevendo sempre risposte diverse e contrastanti. Dal mio punto di vista il fantastico ha come primo scopo proprio l'analisi della realtà, in barba a coloro che lo considerano letteratura bassa. Affronta i problemi della nostra società, dell'interiorità, li mette in gioco su campi di battaglie immaginari, ma non per questo esulida la quotidianità. Ne cambia solo l'approccio, facendoli danzare secondo una linea allegorica. L'autore stesso, come vi ho appena letto, ha inserito un'altra immagine della nostra realtà. Cioè è riuscito davvero a darci il suo punto di vista della realtà, del bene e del male, della religione, della società, della sociologia umana. E questa è un'altra cosa veramente da apprezzare. In definitiva, nonostante non sia il mio genere preferito, non mi sono annoiato nella lettura, anzi è molto scorrevole, come ho già detto. Quindi vi consiglio assolutamente di leggere il patto della Viverna. E auguro all'autore sordiente di continuare a scrivere, perché ha della stoffa. Veramente bravo, bravo, bravo. Complimenti. E ragazzi, se avete dei commenti, se voi l'avete letto, fatemi ovviamente sapere qui sotto. Io leggo tutti i commenti, quindi sbizzarritevi, tempestatevi di messaggi. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Spero sia presto. Cercherò di liberarmi, perché mi fa sempre piacere recensire i libri che leggo e condividerli con voi. E alla prossima. Ciao! Ciao!